Ri buongiorno a tutti belli e brutti Volevo parlare di un argomento Di un argomento che Ho già un po' Parlato nell'altro video Che non dovevo fare però Mi scappa Intanto scappa quando parli dell'energumeno Dell'innominabile L'innominabile Perché il suo nome tocca Ti coglioni, porta sfiga E insomma Volevo parlare di un argomento che Adesso Mourinho Mourinho Sei già sulla graticola Sei già sulla graticola Quelli che non propongono Adesso la gente vuole divertirsi Dovete capire questo Si, vinci, ok Vuole vincere, ho capito Però la gente paga per andare a divertirsi E tu se va Paghi tanti soldi Perché adesso il calcio è caro Non è come una volta È caro Per andare a vedere la porcheria Che propone anche la Roma Ti gira un po' le palle Guardate che hanno le palle Molto girate i romani È un po' come noi Juventini Questi sono due Due non allenatori Che hanno Che hanno vissuto Quel loro periodo di gloria Questi sono due allenatori Toccati dalla fortuna Il nostro innominabile E quel Mourinho lì Perché Hanno avuto quel periodo Dove non c'era nessuno Per competere Avevano la squadra più forte In assoluto E hanno fatto il bello E il cattivo tempo Poi quando Quando il livello Delle altre squadre Si alza un po' Questi fanno le figure di merda Avete visto no? Il Mourinho Il Mourinho Cosa fa Roma Cosa ha fatto il Tottenham Cosa ha fatto il Manchester Cosa ha fatto Tutte le squadre Dove è andato il Mourinho È stato mandato via È pagato per andare via Pagato Il Tottenham per mandarlo via Gli ha dato 20 milioni di sterline 20 milioni di sterline Per mandarlo via ragazzi È una cifra che Penso che nella mia vita Neanche se vivo 10-20 vita di fila Non vedrò una cifra del genere E sulla stessa lunghezza d'onda C'è il nostro fallito Il nostro fallito Uno che Ha ereditato Una squadra fatta Una squadra fatta E tu mi direi Ripeti sempre queste cose No Arrivo al punto Arrivo al punto poi Uno che ha ereditato La squadra fatta da Conte Che ha proseguito Un percorso Fatto da Conte Dove quando incominciava a sbagliare Interveniva la società Interveniva Nedved A metterlo in riga Perché interveniva Nedved A metterlo in riga Fino a quando è stato cacciato via Perché non ne poteva più nessuno Non ne poteva più nessuno È l'ultimo anno e mezzo Soprattutto l'ultimo anno e mezzo Non ne potevo più neanche io Poi Poi Questi allenatori Questi allenatori Perché vanno in televisione Hanno i loro amici Che li paraculano Che si fanno portare In palmo di mano Perché secondo me Questi li pagano Per me questi li pagano Vanno a farsi pubblicità in televisione Vanno a Sky A fare l'intervista del cazzo A sputtanare gli altri allenatori Quelli che hanno vinto L'ultimo scudetto Quelli che hanno vinto Gli ultimi trofei Per farsi Per ritornare in voga E poi quando ritornano Che propongono il loro calcio di merda Parlo di tutti e due Non parlo solo del mio Poi fanno queste figure del cazzo Poi fanno queste figure del cazzo E ve lo dice uno Adesso arrivo al punto Arrivo al punto che Questo qua Sapete quanto l'ho difeso io Ma quanto l'ho difeso Questo non allenatore Lo sapete quanto l'ho difeso Io Gli mandavo i messaggini Mi ricordo Sul Perché io seguo molto Demonquide Il mio primo canale in assoluto Lo seguo sempre E Demonquide Siamo amici Siamo amici E le sapete quante volte Io gli mandavo Sul suo telefonino I messaggi Su Che difendevo sempre Che difendevo sempre A lei Che chiedevo sempre la colpa Alla La società In primo Ma poi Ai giocatori Sempre Ho difeso questo allenatore Fino Al giorno Che abbiamo perso La Coppa Italia Contro l'Inter Lì ha detto basta Adesso veramente basta Avevate ragione Ma mi sono Mi sono fatto mettere Le fete di prosciutto Davanti agli occhi Per anni 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 Ho creduto a tutte le palle Che dice questo Ma ragazzi In questo momento Sto parlando anche di quell'altro Perché è un fallito Perché è un fallito Anche quello Un fallito dove Ha vinto dove non c'era nessuno Ha vinto Poi la Champions Che ha vinto Quella lì Quella lì è rubata Anche quella Perché quando rubano Loro rubano bene Non è come gli altri Che rubano Che rubicchiano Quando rubano Rubano bene Confronto noi Che dicono sempre Che rubiamo Ma Ormai questo qui È un diktat Che purtroppo Non ce lo tireremo mai via Perché sono convinti Sono fissati Avete visto i rigori Tra parentesi Il rigore Che non c'era Alla fine Il rigore Del Bologna Non c'era Avete visto Che coglioni Che hanno fatto venire Che coglioni Non c'era il rigore Ecco No Comunque Ritornando A questi fenomeni A questi fenomeni Sto parlando di tutti I due Insieme E questi sono Quelli che hanno vinto Quando non c'era nessuno E questo Quanto l'ho difeso L'ulto Ho dovuto chiedere scusa Io Ho dovuto chiedere scusa Scusami Per tutte le volte Che ti ho rotto le palle Che ho difeso Questa sottospecie Di non allenatore Perché questo non è un allenatore E quelli che Ricordatevi Che i calciatori Che vanno Eh sì Perché lui È uno Che Come dicono Che Guarda molto i dettagli Sono tutte palle Non li possono vedere Questi due allenatori Avete visto adesso Che barahonda Che c'è nello spogliatoio Della Roma Perché anche i giocatori Vogliono giocare al calcio Non vogliono sempre Speculare Speculare Avete visto le dichiarazioni Di chiesa Anche all'inizio Dobbiamo giocare alti Dobbiamo attaccare Anche i giocatori Vogliono giocare Per divertirsi al calcio Passate a parlare Adesso i miliardi Vogliono attaccare Segnare Divertirsi Non E Oddio 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 Non dobbiamo prendere gol Guardare sempre dietro Sempre dietro Guardare Vi ricordate le parole di Sari Questi giocatori Si preoccupano sempre Di guardare dietro Invece di guardare avanti Perché ormai Aveva impresso Una mentalità Talmente perdente Questo non allenatore E poi Per estirpare Questa mentalità Devi cambiare Tutti Ormai O devi veramente Trovare un allenatore Di quelli psicologici Di quei psicologhi Che veramente Ti prende il cervello E te lo strizza Per tirare fuori Tutto lo schifo Che ti ha messo dentro Quello là O se no Devi cambiare Tutti i giocatori Devi ripartire da capo Perché anni e anni Di quello schifo Poi non è semplice Avete visto Sari Avete visto Sari Che problemi ha avuto Poi Sari è stato boicottato Siamo a perdere Sari E il povero Sari Ne ha passato Ha passato un anno A parte che ha cominciato Poverino Che stava male Aveva polmonita E poi ha cominciato il covid Ha passato un anno Di merda Sari Ha passato un anno Di merda Il povero Sari Gli hanno frantumato I coglioni Perché fumava È perché così È perché colì No? Potevamo aprire un ciclo Con Sari Di quelli Veramente Poi Pirlo Neanche non è parlo Pirlo Neanche non è un allenatore Vedete che merda Che sta facendo Con la Sampdoria Poi lì in Turchia Non so neanche Che cazzo C'è andato Fare lì in Turchia Quelli sono Per chiudere Due falliti Due falliti Che hanno vinto In un periodo Dove non c'era nessuno Che hanno Quelli che li parano Il culo Che non sanno Proporre calcio Difatti Vedete la Roma Vedete noi Questo siamo il terzo anno Vedete che anche questo anno fallirà Perché è la sua strada Il fallimento È la sua strada A me dispiace Per noi tifosi Viventini Per tutti voi Che provate a crederci Perché ci provo anch'io Sapete Quando dentro avete Quel poco Ci credo Voglio crederci Dopo magari vedete Quel quarto d'ora 20 minuti Che giocano a calcio Poi di nuovo Buio totale Buio totale Bisogna giocare 90 minuti 100 Al calcio Non giocare A un quarto d'ora E anche quel quarto d'ora Che giocano Non è che ci sono schemi Giocano per Per nervosismo Per Per orgoglio Ma non Ma non Non è calcio Quello lì Non è calcio E ci sono ancora Quelli che lo difendono Poi La differenza fra i due Sapete qual è Che uno Sa Inimicarsi la folla Sa come Come essere paracolato Perché Tu tocchi Mourinho a Roma È come toccargli Il Papa No Invece questo qua È un povero fallito Anche lì No Perché non sa neanche Non sa neanche Farsi voler bene Invece quell'altro è furbo Questa è la differenza Uno è furbo Questo questo O l'altro No Ciao a tutti i belli e brutti Iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima ragazzi Like Campanellina Mi raccomando Sempre like E la campanellina Mi raccomando Sempre iscrivetevi al canale E ci vediamo la prossima Ciao raga Dal Bosco Ciao a tutti i nostri fai Ciao a tutti i nostri fai